salve a tutti bentornati nel mio canale uno degli argomenti talvolta richiesto da alcuni pazienti è il mantenimento della fertilità durante l'uso di molecole anabolizzanti sappiamo quanto il tessosserone sia indispensabile per la spermatogenesi ossia per la formazione di spermatozoi a livello testicolare ma è importante il tessosserone intratesticolare ecco perché invece il tessosserone esogeno che viene introdotto dall'esterno non ha una funzione potenziante la spermatogenesi come si potrebbe ipotizzare ma anche anzi ha una funzione inibente sappiamo come il tessosserone e il suo derivato estologeno vanno a inibire l'asse ormai lo conosciamo tutti ipotanamo ipofisi gonadi i recettori vengono occupati sia una feedback negativo e minor produzione di gonadotropine questo porto meno stimolo a livello testicolare il quale quindi produce meno testosserone e meno spermatozoi del testosserone la persona che lo sta assumendo dall'esterno non si accorge del deficit produttivo purtroppo ci accorgiamo invece del deficit produttivo a livello di spermatogenesi di spermatozoi questo può accadere nell'atleta che fa dei cicli di anabolizzanti può succedere alla persona che sta entrando in trt in una terapia di rimpiazzo del testosserone quindi bisogna sempre valutare anche la il desiderio di paternità e l'avventuale ricerca di gravidanza nell'uomo che entra in terapia ormonale sostitutiva anche di tipo bioidentico la b h r t e si è visto ormai da molti protocolli come vi è possibilità di mantenere la fertilità in queste persone con l'utilizzo di molecole che conoscete bene e ci tra il cromifene citrato e il gonasi il gonasi che è un analogo dell'lh la gonadotropina corionica cosa fa la gonadotropina corionica va a stimolare le cellule dell'eidic va a aumentare il testosserone intratesticolare il quale a sua volta ha un'azione favorente alla spermatogenesi quindi già questo può mantenere in parte la produttività delle cellule dell'eidic il trofismo testicolare e di riflesso una attiva spermatogenesi spesso si associa anche il citrato di cromifene il quale andando inibire a bloccare i recettori ipotalamici e ipofisali per gli estrogeni fa sì che ipotalamo ipofisi non si rendano conto in maniera eccessiva della presenza del testosserone esogeno e quindi continuano a dare la loro stimolazione a livello testicolare questa abbinata di molecole può quindi mantenere e tentare di mantenere la fertilità in che dosaggi nell'uomo in trt che sta cercando in quel momento la fertilità studi anche oltreo c'erano dimostrato come 500 unità a giorni alterni di gonadotropina di conati per dire un nome commerciale riescono a mantenere una buona attività testicolare spesso associata a 25 mg di cromifene citrato nella persona che invece non ha una intenzione immediata di ricerca di gravidanza ma vuol far sì che la trt che si effettuando non spenga totalmente testicolo 1500 unità di gonasi settimanali possono far sì che si mantenga un asse parzialmente attivo non ho parlato di molecole dedicate alla stimolazione della spermatogenesi quindi degli fsh sintetici i fossimo per fare un nome farmaci molto costosi che io utilizzo chiaramente quando ho delle forme di ridotta spermatogenesi di tipo non primitivo ma secondario dove posso spingere il testicolo a lavorare in più anche lato spermatogenesi l'argomento di oggi era questo cerchiamo di mantenere un fuoco acceso nella steroidogenesi e quindi di riflesso nella spermatogenesi testicolare durante l'assunzione di anabolizzanti nello sportivo o nella trt dell'uomo che poi è mio chiaramente mio paziente il mio lavoro professione d'andrologo è quella di trattare pazienti ipogonatico o recuperare assi in parte soffocati dall'utilizzo improprio e in debito di farmaci per questo il messaggio che volevo mandare oggi con questo vi saluto auguro a tutti una buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video grazie 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 grazie